bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e siamo arrivati alla secondo video per quello che riguarda le sfide della settimana numero 9 stagione 5 capitolo 2 di fortnite è davvero molto molto semplice quella che sto per andare a farvi vedere posizione della scatola nera dell'aereo caduto è davvero appunto una cosa semplicissima ci pensiamo ci portiamo direttamente nel gameplay e sto già allandando come vedete nell'unica isola che ha un aeroplano distrutto quindi una roba davvero super easy vicino a castello corallo qua dietro c'è sabbie l'aeroplano è ovviamente questo la scatola non la possiamo vedere perché la sfida non è ancora uscita voi invece la vedrete non appena vedi guardate questo video si troverà in poche parole in questa posizione è una scatola arancione con due nastri quindi davvero semplicissimo insomma io vi ringrazio per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e mi trovate proprio adesso in live sulla piattaforma viola ciao